Delle tasse parliamo tutti e dirò un flash, ma credo che la lotta all'abusivismo sia un fatto essenziale per la professionalità, per la serietà, per la trasparenza, anche fiscale, delle transazioni immobiliari. Io ho fatto molte battaglie in politica e allora prendo l'impegno con la FIAIP, con il vostro presidente, quando tra qualche settimana saremo in Parlamento, siccome dei temi fiscali, delle cose, tutti si occuperanno, vorrei insieme a voi partire dal rispetto di queste norme che ci sono e di rendere un vero e proprio reato un abusivismo che mortifica la vostra competenza per fare insieme questa battaglia. In una vostra precedente assemblea nel gennaio del 2013 mi impegnai a portare a compimento l'inaspiramento delle sanzioni, anche con misure di natura penale, nei confronti di chi esercita abusivamente delle attività professionali, in particolare nel campo della compravendita di immobili. Dopo una battaglia faticosa, perché questo è uno strano paese, che un giorno fa un date di depenalizzazioni, un altro giorno introduce nuove figure di reato, siamo riusciti ad approvare, come certamente è noto a tutti i membri della FIAIP, questa norma al Senato della Repubblica. Non è stato uno sforzo piccolo, perché molti erano perplessi, abbiamo anche condiviso con il Governo un parere favorevole. Ora la palla è alla Camera, che dà molto tempo a questa norma e quindi da parlamentare, da membro del Senato e da ex membro della Camera invito i colleghi di Montecitorio a dare seguito alla nostra azione e al nostro sforzo. Tutelare i cittadini che operano nel mercato immobiliare è molto importante, c'è molto abusivismo, c'è un esercizio da parte di persone prive di titoli e di professionalità di queste attività. La norma è necessaria, tutela del mercato e soprattutto degli acquirenti. Parliamo della Casa, ora ci sarà la riforma del Catasto. Qual è il suo giudizio e l'impegno di Forza Italia? Noi abbiamo cercato di mettere dei paletti chiedendo che nelle commissioni che dovranno rivedere i valori catastali ci siano anche i rappresentanti della proprietà edilizia. Questo è stato accordato, però leggiamo delle anticipazioni che non ci lasciano assolutamente sereni, perché in molte città l'inasprimento del prelievo potrebbe essere rilevante, del 10, del 30, anche del 50 o 60%. Alcuni dicono che sarà poi una media per cui chi paga troppo poco e ci sono casi francamente scandalosi, dovrà pagare di più e per altri invece ci sarà qualche beneficio. Noi vediamo che da quando non c'è più il centrodestra al governo, la casa è stata considerata un vero e proprio bancomat. Dal 2011 ad oggi la tassazione sugli immobili è passata da 10 a oltre 30 miliardi di euro. Tutti possono constatare come questo abbia avuto riflessi negativi anche sul valore degli immobili, sulle compravendite del settore immobiliari. Quando levammo con il centrodestra l'Imu sulla prima casa il mercato ritrovò una sua dinamica. Io mi auguro che alcune previsioni negative riguardanti il catastro vengano smentite dai fatti, ma siamo con i riflettori puntati perché vogliamo tutelare la casa, che è un bene fondamentale per le famiglie, è un motore essenziale per l'economia e tutelando anche la casa con una tassazione equa e non vessatoria, consentiremo anche al mercato immobiliare, tutelando con sanzioni penali, la professionalità di avere un suo spazio adeguato.